Allora, ragazzi, siamo in prima media. Dobbiamo cominciare a studiare la geometria. Però io ho bisogno di capire dove siete arrivati alle scuole elementari con la geometria. Raimondo? E noi siamo arrivati al triangolo, sorella. E Pierino? E noi siamo arrivati al quadrato, sorella. E tu, Abdullah? Noi siamo arrivati al pentagono. Grazie.